Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Michelle Luntziker, mamma in che la mette in guardia su un vizzetto di famiglia, stai attenta che ce l'hai nel DNA Michelle Luntziker, la mamma in che le fa una confessione inaspettata sulla sua famiglia, la donna rimane senza parole Spesso la madre della conduttrice è apparsa sul suo profilo social e ormai i suoi fan hanno imparato a conoscerla Michelle è molto legata a lei e ogni tanto le due si concedono un'uscita, una cena o anche una piccola vacanza insieme Ineke Unziker è olandese ma ha anche origini indonesiane. Qualche tempo fa, infatti, ha spiegato attraverso alcune storie pubblicate dalla figlia che nella loro famiglia ci sono dei lontani parenti asiatici Sembra che due antenati di Michelle e Ineke, marinai olandese, avessero sposato delle donne indonesiane ed ecco perché la figlia Aurora ha dei tratti del viso spiccatamente asiatici Mamma Unziker sembra sempre regalare aneddoti e perle di saggezza sulla sua famiglia e anche oggi non ha fatto eccezioni Questa volta, però, la notizia non ha fatto proprio piacere a Michelle che ha iniziato a preoccuparsi, ecco che cosa le ha raccontato sua madre Michelle Unziker, la mamma Ineke la fa preoccupare, l'avvertimento Tra le storie Instagram della conduttrice, oggi, è riaffarsa la mamma che, come dice lei, finalmente è andata a trovare sua figlia Lei le ha preparato un ottimo piatto di pasta e Michelle, come sempre, le ha fatto i complimenti per la sua bellezza e la mostra orgogliosa sui social, deve essere ripresa, guardate che bella mamma che ho Punto subito dopo la donna fa una confessione sua madre e ammette che ultimamente sta cercando di limitarsi e bere vino solo durante il weekend Questo perché, ammettere Michelle, le piace così tanto che ogni tanto non riesce a fermarsi ad un solo bicchiere, ma se ne versa due o tre A quel punto mamma Ineke interviene e avverte la figlia, devi stare molto attenta perché in famiglia io avevo, mio nonno alcolizzato, mio padre alcolizzato e mio marito anche ammette la donna con un tono tra il serio e lo scherzoso A quel punto la Hunziker si dispera, o no? Quindi dici che ho il DNA dell'alcolista? La risposta della madre è affermativa ma Michelle si fa una bella risata Michelle Hunziker.Negli ultimi tempi molto si è parlato della vita privata di Michelle e del suo rapporto con il marito, a breve sembrerebbe ex, Tommaso Trussardi La donna è tornata a parlare del loro rapporto serenamente e i due sono stati anche insieme in occasione di un evento automobilistico di Tommaso al quale ha partecipato tutta la famiglia Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video